Mancanza di coperture economiche certe, assenza di uno bando pubblico, nessuna programmazione a lungo termine, insussistenti motivi di urgenza per una variazione di bilancio effettuata a mezzo di libera digiunta e non con una legge regionale ordinaria. Queste le principali irregolarità che hanno spinto il capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi a presentare all'autorità nazionale anticorruzione e alla Corte dei Conti abruzzese e alla Procura della Repubblica dell'Aquila un esposto sulla convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e Napoli Calcio per l'organizzazione dei ritiri estivi dei prossimi anni della formazione partenopea in alto sangro. Certamente si tratta di un milione di euro all'anno oltre IVA per sei anni minimo rinnovabili di altri sei per cui parliamo potenzialmente di 12 milioni di euro più IVA che sono stati assegnati secondo noi in maniera un po' spregiudicata e in violazione purtroppo di norme nazionali importanti in tema proprio di variazione di bilancio per cui è bene verificare, è bene controllare sia nel merito della scelta della squadra perché non è stato fatto un bando e soprattutto perché non è stato fatto uno studio precedente come dire di valutazione delle opportunità e di quelle che sarebbero state le ricadute sul territorio di questa scelta. Il piano marketing non esiste nel senso che non ci sono degli studi fatti in Regione Abruzzo che giustifichino la scelta del Napoli piuttosto che di un'altra squadra. Ci si dice nella delibera che la scelta è stata fatta perché il Napoli è l'unica squadra del Sud che gioca in Serie A e che partecipa alla Champions League. Bene, in Champions League credo che non ci partecipi più quest'anno ma partecipi in Europa League quindi già uno dei presupposti per i quali è stato scelto il Napoli cade ma soprattutto chi lo dice che scegliendo la squadra del Napoli se non c'è uno studio fatto prima, scegliendo la squadra del Napoli si avrà il maggior ritorno possibile per Regione Abruzzo piuttosto che scegliendo, che so, il Milan, la Juve o un'altra squadra. Mancano le coperture, questa è una delle criticità più gravi e di irregolarità più gravi nel senso che la legge nazionale ci dice che ogni volta che si approva una variazione di bilancio l'ente, quindi la Regione, deve prevedere le coperture per tutta la durata di una legge e di un contratto. Questo contratto, questa convenzione dura per sei anni, minimo, forse rinnovabili di altre sei, le coperture previste ci sono soltanto per il primo anno.